Ho capito, lui vuole fare lì le Olimpiadi, c'è un conflitto di interessi grande quanto una casa. Allora, mentre le Olimpiadi le facciamo a casa di giacchetti, noi ricostruiamo la città di Roma. Del resto la piscina c'è già, non devono costruire, non so se saranno d'accordo, perché ovviamente l'importante era costruire per le Olimpiadi, poi come va va. Invece è importante ricordare perché siamo qui, questa sera stiamo chiudendo la campagna elettorale in un luogo simbolo di Roma, che è Ostia, l'unico municipio sciolto per mafia.